Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuta alla nuova puntata abbiamo ospite Alice Allora questa è la prima domanda più spontanea che nasce per Alice Allora se dovessi descrivere chi è Alice oggi, a chi ci ascolta e poi rappresentarla in una canzone Come la rappresenteresti? Allora Alice è una giovane cantante e cantatrice rock emergente Che finalmente è uscita con il primo EP dal titolo Demone E sono molto entusiasta aggasata per questa uscita Perché il mio primo obiettivo era quello di portare la mia musica fuori dal mio studio O comunque dal cassetto e quindi incidere il mio primo EP, il mio primo album Ma soprattutto portare la mia musica in giro nei live E quindi attraverso appunto l'uscita dell'EP questa cosa viene calza a pennello E con la mia band andiamo in giro a suonare Infatti il 28 alla settimana prossima avremo il release party Quindi il live ufficiale dove presenterò l'EP Demone E quindi sono molto molto casata Tanto rock and roll e questo Intanto vi volevo ringraziare per avermi avuto ospite E adesso insomma vi racconterò un po' di chicchette E domanda ma perché Alice? Come mai il nome Alice? Allora Alice è un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie Però mi sono persa nel mondo del rock E a questo momento parliamo del nuovo disco Il primo disco di Erbuto Dove un pochettino spazi nella racconto Ma la prima domanda che viene in fondo Si è un po' con la testa sulla luna Sulla luna, esattamente Perché appartengo alla luna E' stato il secondo singolo essere uscito Il primo singolo è ossigeno Il secondo appartengo alla luna E poi siamo usciti con l'EP Infatti questo pezzo appartengo alla luna Diciamo che racconta Una metafora Che appunto la luna è considerata come un luogo Dove possiamo essere in pace con noi stessi E quindi siccome io provo un grandissimo fascino Per tutto quello che riguarda il mondo dell'universo Le stelle, i pianeti E mi ha sempre affascinato la luna Anche solo guardandola Anche perché sono una romanticona Quindi nel senso Però insomma è stato un pezzo Che ho scritto facendo riferimento A quelle oppressioni che possiamo avere Tutte quelle persone che ci possono andare contro E in un certo senso Diciamo ma io voglio trovare la mia pace Non mi interessa E quindi cerchi in tutti i modi Di liberarti da quei demoni E la luna è come quel luogo di pace Quel luogo dove possiamo stare tranquilli Nella realizzazione dei testi In questo caso nasce prima la parola Nasce prima un testo Un riff Un beat Oppure accidentalmente Possono nascere insieme Allora in linea generale Io scrivo prima il testo E poi la musica Nel caso di Appartenga alla luna È nato Prima il testo E punto E poi E poi la melodia Di dove canto No 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 E da lì è nato un po' Il tutto E diciamo che In linea generale Dipende molto Nel senso che non ho Una regola precisa Cioè con la quale io scrivo I miei pezzi Però Molto spesso Nascono prima da un'idea di testo Quindi da cosa voglio parlare In questa canzone E poi da lì nasce un po' Il tutto Nel ep Diciamo in linea generale Per esempio Vai al diavolo Avevo Veramente bisogno Di dire determinate cose Quindi Il tutto è nato da Voglio dire questo E quindi poi Ho scritto Per esempio In quel caso Prima La musica E poi Il testo Diciamo che dipende Parlando di questo disco Abbiamo messo una copertina Dove in realtà Ci sei tu E E basta Un'immagine semplice Ma A questo punto Possiamo dire efficace Beh diciamo che Mi piace molto l'idea Del Less is more Quindi Meno cose abbiamo Più efficace Che è il messaggio Che voglio mandare Soprattutto nella parte visiva Mi piace molto Avere pochi elementi Ma in quel caso Comunque Sono me stessa Con uno scatto Tra l'altro Dove Non 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 Avrei dato Questo credito Diciamo che poi alla fine È diventata la cover Dell'album È stato quindi poi Uno scatto molto efficace Che poi appunto Grazie Ad Alessandro Che è appunto Dell'agenzia Il music agency Che è il social media manager E grafico Ha realizzato Questa copertina Fichissima E quindi sì È stato Diciamo Puntuale Come Arriva No? Credo E abbiamo visto Un videoclip E gli ultimi due videoclip Dove sono un po' particolari Ritornando A quello Della luna Chiaramente Tu che Ti arrambichi Cercando di Raggiungere O comunque Avvicinarti Alla luna Allora Questo videoclip Diciamo che Lo racconto sempre Con il sorriso Perché Nella realizzazione Quindi il giorno in cui Siamo andati a girare È stato Molto Ci sono stati Degli anezzi Parecchio divertenti Perché Innanzitutto L'idea E la realizzazione Sono stati Svolti In tre giorni Cioè ho dovuto cercare Per esempio I demoni Sono stati Degli amici Che ho dovuto trovare Nell'arco di pochi giorni Perché chiaramente Dovevamo girare Questo videoclip In più E io ci sono Ci sono io Che mi arrampico Su questa Diciamo Su questa antenna E ci sono stati Dei momenti In cui appunto Mi stavo Per cadere Quindi Le risate Il set Perché comunque Non Io ho detto Vabbè dai mettiamo Scegliamo questa take Dove sto realmente cadendo Quindi potrebbe essere reale No? È stato diciamo Molto Molto divertente Cioè molto bello In più Nell'altro set Nel quale ci sono io Con dietro dei Dei manichini Con appunto Delle Che sembrano Dei fantasmi No? Che in realtà Erano delle buste Di plastica Trasparenti Sotto C'era praticamente Erano persone vere Quindi erano Le comparsi del video E sotto C'era praticamente Si era creata La condensa Per quanto Perché comunque Abbiamo dovuto girare Quelle take Parecchie volte Quindi diciamo È stato un video Che è faticoso Il fatto della scalata Ma allo stesso tempo È stato diciamo Intenso Anche il momento Proprio Delle take Del set E tutto quanto Però è bello Mi sono divertita E poi dopo C'è stato anche Il secondo Il nuovo videoclip Ribelle mi pare Anche questo qui Molto particolare Un po' Tutti e tre i video Che hai presentato Sono comunque In genere Un po' particolari Allora Noi siamo usciti Con tre videoclip Il primo Era del primo Singolo Ossigeno Poi Appartengo alla luna E il terzo videoclip È stato quello Di Vai al diavolo Che è il singolo Dell'epidemone E allora Devo dire che L'ultimo videoclip È stato Allo stesso modo Molto Divertente Intenso Perché Mi avevano proposto Questa cosa Di cospargermi Con Con la vernice Ho detto Facciamolo Perché no Perché comunque Nel senso Non ho mai avuto Quel rifiuto Nello sporcarmi Proprio me stessa Nel fare qualcosa A maggior ragione Poi se si tratta Di un mio videoclip Io ho detto Facciamolo Assolutamente E quindi lì Chiaramente Le tecche erano Tutte Quasi buone Alla prima Perché comunque Io prendevo Nelle mani La vernice Dovevo Spargermi di vernice Dovevo Diciamo Agitarmi così Quindi di conseguenza Nel movimento Poi mi sono Sporcata di vernice I vestiti Addosso Ovunque Ho fatto un disastro Pure per terra E quindi È stato È stato bello Però in realtà Penso e spero Che sia arrivato Proprio quel senso Di liberazione Che poi Diciamo Il concetto Della vernice Dello sporcarsi fuori È un po' Come a dire Mi sto liberando Da quello sporco Che avevo dentro Quindi stai Facendo vedere Con il senso Della vernice Quello che in realtà Vivi dentro Che poi stai mandando Al diavolo No? Vai al diavolo Prima tu hai citato Hai detto Che nella copertina Sesta sintetica Essenziale Anche nei testi Che scrivi Prece più Essere un po' Più stile inglese Con la lingua inglese Dove bisogna essere Più sintetici Anche se musicalmente Si dice artizionalmente Musicalmente È più adatta Però oppure Presce essere Un po' più prolessi Come nel trap Dove le parole Scorrono a fiumi Mi piace molto Come hai detto Essere sintetica Un po' più All'inglese All'americana Insomma In modo più internazionale Perché Diciamo che Non Non mi piace tanto Mettere tante parole Preferisco essere Molto più efficace Con poche Cose Con poche parole Con poche frasi Dette Bene Quindi con le giuste parole E pesate In modo che il messaggio Arrivi Diretto E immediato Quindi questo Preferisco fare Assolutamente sì Poi è stato Poi è stato Diciamo Bello Diciamo Scrivere Tutti Tutti questi Cioè Tutti i testi Dei miei brani Che ho scritto Ripeto Testo e musica Di tutti i brani Dell'EP E in ognuno Il mondo femminile Ricordiamo Poi che in realtà Band O comunque musicisti Femminile Ci sono Citando le cranberries Anche The warning Che poi hanno fatto successo Grazie ai Fullfighter Al loro tour Ma come mai È scelto La cosa più complessa In fondo Di tutto il mondo Perché poi il pop Il melodico Ancora più Va di moda Olt rap Allora Diciamo che io Come carattere Sono da sempre La persona che va Controcorrente Da sempre Sin dall'elementare E il rock È perché Io sono nata In una famiglia Di musicisti E ho da sempre Masticato E sono sempre stata In un ambiente Dove Prevaleva il rock Quindi ci sono cresciuta Quindi diciamo che È una cosa che Mi appartiene Da dentro Crescendo Ho capito Nonostante Diciamo Mh Abbia Sperimentato Tanti generi Tanti stili Ho capito che Alla fine Quello che realmente Mi rappresenta È quello Perché veramente Voglio comunicare Attraverso il rock Quindi non c'era Niente Che io potevo fare Se non questo È per questo Che io Ne sono molto fiera E nonostante So che è la cosa Più complessa Non diciamo complicata Ma è più complesso Ma sono convinta Che ad oggi Nel panorama italiano Ci sono pochi artiste Donne Come me E quindi Porto avanti Una cosa Diciamo A testa alta Quali artisti Ti hanno Hai visto Che musicalmente Hai detto Che dentro casa La musica Era come il pane O come l'aria Ci sono quali artisti Che ti sei portata Dietro Che musicalmente Poi in realtà Ti porti anche dietro Artisticamente Che nel tempo Ti hanno fatto O crescere O comunque Hai un pochettino Rubato Hai fatto tua Alcune espressioni O comunque Alcuni stili Nel genere Assolutamente sì Sicuramente Allora Partiamo dagli Skillet Possiamo Ne posso nominare Tantissimi The Pretty Reckless Avril Lavigne Era Da Sin da quando sono piccola Un mio idolo E lo è tuttora Mi hanno Influenzato Possiamo anche Nominare I Deftones Gli Shinedown Prevalentemente Gruppi Gruppi americani Ecco Internazionali Quindi Ce ne sono Veramente tanti Diamante Un'altra Orianti Veramente Ci sono Tanti artisti Che mi hanno Influenzato Perché comunque Ascolto da sempre Tanta musica Mi piace ascoltare E rubare Quella E Non copiare Perché è diverso Sì Gli intelligenti Rubano No E E Questo Ce ne sono stati Veramente tanti Ed è Diciamo Mi piace Perché Alcuni Mi hanno Dato Quella Quella Scintilla Quella Quella forza Di dire Ok Alzati in piedi E Fallo Fallo Perché Come dire Mi ha dato Quella Quella carica Giusta Per Riuscire a Iniziare Anzi Ricominciare Da Un passato Che mi stava impedendo Di Capire Quello che dovevo fare A livello musicale Artisticamente Parlando Qual è stata la tua Sensazione Che hai provato Quando In cui Hai fatto Il Presentato Materialmente Hai preso il disco In mano E gli altri L'hanno visto E l'hanno ascoltato Nel Nel tuo pensiero Che Vedevi le loro facce E le ascoltavano E la tua reazione Qual è stata La tua sensazione Poi Nonostante che Loro Probabilmente Abbiano risposto In modo formale Però Tu Nel loro viso Che hai capito? Ma Sicuramente Ho capito Che 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 le mie canzoni Gli hanno trasmesso Energia E che Hanno In un certo senso Anche se magari Sono state Anche Ci sono state anche persone Che Mi hanno detto Guarda Questo non è proprio Il mio genere Però mi piace E quindi Anche questa cosa qui Per esempio Per me È stata Importantissima Perché Perché È un piccolo Grande Guardo Che però Mi ha dato Quella sensazione Di Cioè Di pura soddisfazione Cioè Una soddisfazione enorme Perché comunque Essendo una cantante emergente All'inizio Ci si deve far forza Un po' Da soli Quindi Partendo da Magari Dal piccolo Tramite Vari contatti Vari amici Conoscenti E poi Anche solo Quelle poche persone Sono riuscite comunque A darmi una grande Una grande soddisfazione Ma che è la stessa soddisfazione Che Che ho Quando faccio i live Ai live Le persone Si alzano in piedi Iniziano A pogare Cantano Seguono Anche se comunque Non Come dire Non te l'aspetti Poi quando Stanno lì davanti Sono trasportate Quindi È veramente Una soddisfazione immensa Che poi a parole È difficile anche da dire No? Ai live spesso Ringrazio Grazie mille a tutti Lo ripeto Tante volte E Di dentro Comunque mi rimane Quella Come dire Quella gioia Quel cuore Che ti esplode Praticamente Così Noi ti stavamo Per chiedere Quale sensazione Sia Suonando dal vivo Al parco Quando davanti C'è una platea Inizialmente silenziosa Perché Inizialmente È silenziosa Ma poi A volte Non c'hai le luci C'hai Però Vedi quel buio sotto Però senti Quel brusio Quella Poi Quell'energia Che da sotto Sale E te la porta Sopra Tu ce l'hai raccontata Perfettamente Com'è A questo punto Scendendo al palco E vedi le facce Delle persone Che c'è davanti E ti fanno domande Particolari O ti fanno Citazioni Dei testi Oppure Che cosa ti chiedo Oppure Che cosa provi Nel vedere loro Le loro facce Che sono emozionate E contenti Allora Sicuramente Diciamo Dopo l'uscita Di Appartengo alla Luna Tantissimi Anche nei momenti In cui Meno me l'aspettavo Canticchiavano No 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 Il tempo Non lo Poi io ero lì In realtà Sorridi Cioè io ho sorriso Perché in realtà Non Cioè sono quelle cose Che non ti aspetti Che quando succedono Ne sei grato Dici cavolo Allora Gli è rimasta in testa E Scendendo dal palco Tantissime persone Spesso mi Cioè mi si avvicinano Quasi Sconvolti In senso positivo Del tipo Non so che dire Rimangono così Non sanno che dire Spesso magari anche dal Rimangono un po' Sconvolte dall'aspetto No Cioè che quando sono sul palco Mi trasformo Quindi anche come look Come outfit Eccetera E faccio uno show Quindi chiaramente Quando mi vedono Scendere dal palco A volte Vedo e noto Che non sanno Come approcciarsi Quindi a volte Magari vorrebbero Dirmi tante cose Magari Si Mi sorridono E basta E Però poi so Che appunto Anche quello Lo vedo Principalmente Anche se non dicono niente Lo noto dagli occhi Cioè guardandole Dico ok Hanno Gli è arrivato Hanno capito E sono contenti Questa per me È la soddisfazione Più grande E Ti hanno chiesto Gli autografi O il selfie Hanno chiesto Gli autografi Hanno chiesto Gli autografi Perché Spesso appunto Anche non solo Con i cd Porto sempre Delle cartoline Con una mia foto Con i contatti Che poi appunto Ve li dirò A fine intervista E spesso Mi capitava Magari Di suonare Entravano dei turisti Anche americani Così Rimanevano sconvolti Dicevano Ti prego Ma posso Seguirti Così me lo firmo Sì certo E quindi Mi chiedevano Gli autografi Selfie Anche i selfie Mi hanno chiesto Dopo le serate Sì 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 Carini E a questo punto Produrre anche Materiali in inglese C'è qualche idea Oppure Sicuramente Anche in lavorazione È in lavorazione Posso dirvelo Sì è in lavorazione Proprio ieri Ho terminato Un pezzo in inglese Che appunto È un work in progress Però sicuramente Nelle prossime Nei prossimi lavori Singoli Barra album Ci saranno Anche dei pezzi In inglese Posso dirlo Tranquillamente Perché comunque Sono sempre stata Molto vicina A quel mondo In più Ho anche vissuto Negli Stati Uniti Per un anno Quindi mi ci sono Messa con tutti i piedi E posso Aprire una parentesi In quell'anno Ho studiato In una scuola americana Dove ho avuto Anche l'onore Di cantare L'inno nazionale americano Alla partita di football Quindi diciamo Che sono entrata Veramente Nella loro cultura E per me Non avere dei brani In inglese Sarebbe un peccato Perché comunque Liverebbe Una parte di me Che in realtà C'è Quindi Quindi sì Li avrò A questo punto Ti faccio Nel discorso Dell'America Secondo te Come viene vissuta La differenza C'era La vissuta La musica in Italia Anche rock Soprattutto rock E la mondo americano Dove in realtà Più che rock Lì Spopola molto Il country Che poi sfocia Nel rock Diciamo che allora La musica americana La musica americana Soprattutto la musica rock americana Lì è Non è così di nicchia Cioè Abbastanza Tra virgolette Normale Che ci siano dei gruppi Che fanno rock Cosa che magari Per l'America Diciamo La musica italiana Non è Diciamo che Non è proprio vista Come Un riferimento Siamo più noi Che magari Prendiamo spunto Dalla musica americana Rock Inglesa Americana Ma comunque Prendiamo spunto Dall'estero Per quanto riguarda Magari la musica rock Quindi Per questo Purtroppo È così Però poi ecco Riguardando anche Cioè Parlando anche Della musica country Lì Oltre che Rock Va tanto Che io amo Ascolto Questo genere Che è un country pop Un country rock Che non è diciamo Il classico country Che suonavano Nei locali Però Alla fine Ci sono vari artisti Che in realtà Non sono Probabilmente Sono quasi rock Cioè un pop rock Un country Io ne ascolto vari Per esempio C'è Jason Aldean Che è uno dei miei artisti Country preferiti Luke Holmes Ce ne sono tantissimi E lì Questo genere Spopola tanto Che poi Noi possiamo solo Che prendere Spunto Perché magari In Italia Non va Però Allo stesso tempo Gli americani Apprezzano la musica italiana Io ho degli amici Comunque in America All'estero E quando ascoltano Le canzoni Loro quello che ascoltano Non è sempre La lingua Dio non capisco le parole Ma è proprio La melodia Il sound Il suono L'energia Che gli arriva Che gli arriva lo stesso Anche se non capiscono Le parole Che è un po' Quello che succede A noi Se non conosciamo L'inglese O lo spagnolo Progetti futuri E attività Iniziative Che stanno per nascere Oppure che si stanno Per sviluppare Allora Sicuramente Progetti futuri Continuerò a fare Tanti live Continuo a scrivere E perché comunque Vorrei appunto Lavorare Al prossimi singoli E album E attualmente Sto frequentando Un'academy Che si chiama Isola degli artisti Ed è un'academy Dove è bello La condivisione E stare comunque Con contatto Con altri artisti E far sentire La propria musica Quindi c'è un scambio Di Di interazioni È bello Che comunque Si creano Delle belle amicizie E quindi Diciamo che È bello Perché poi Stacchi dalla realtà Perché io ci vado Una volta Al mese Tutto il weekend E quindi lì È un momento di Non dico vacanza Però Ti ritrovi Con Altri 60 artisti Si passano Le notti Ad ascoltare musica E Quindi è bello Parlando dell'album A questo punto Non solo C'è tu l'artista Ma C'è anche la produzione Assolutamente Si Infatti il mio produttore È Davide Gobello E Lui ha prodotto Interamente Tutto l'album Lui lavora Con un team Di Di persone Assolutamente Super competenti Di Di serie A Lui stesso È un bravissimo Chitarrista E produttore Quindi Sono veramente In In ottime mani Ed è stato Veramente Bello Diciamo Avere lui Come produttore Con il quale Mi trovo Veramente Tanto Tanto Bene Sia A livello Professionale Che umanamente Quindi Sono contenta Di averlo Nel team Anche perché Poi Non solo C'è lui Come produttore Ma appunto Anche Chi si occupa Della questione Promo Quindi Alessandro Per El Music Agence Il mio manager Gere Christian Gallana La label Con la quale Siamo usciti La Rusty Records In più Chi ha fatto Video e foto Il video Appunto È stato Tutti e tre Videoclip Sono stati fatti Da Kinorama Studio Sono Due giovani Videomaker Di cui C'è Una videomaker Quindi Girl Power Stimo Questa Questa cosa Del lavoro Che spesso Non viene stimato Per la donna In realtà È bravissima E la stessa Fotografa È Irene Di Salvo È una Una giovane Fotografa All'età mia Un anno più Mi sa Quindi Abbiamo un team Bello forte In più Saluto anche La mia band Che appunto Siamo in cinque Siamo io Due chitarristi Batteria E il basso E E niente Quindi Sì I nomi Dei componenti Della band Anche se sono uomini Li possiamo ricordare Li possiamo dire Assolutamente sì Faccio un saluto Alla Alla mia band E quindi Anche i componenti Sono Alessandro Petrocelli E la chitarra Tommaso Salustri L'altra chitarra Michael Jordan Anzi Detto Vong La batteria E Samuele Sperduti Al basso Mando un saluto Rock and roll Sempre E E Avanti tutta Mi potrete seguire Sui social Io sono Alice Mi potete seguire Su Instagram Su Facebook Sul canale YouTube Su TikTok Se avete TikTok Il mio IP Mi è uscito Una settimana fa Ormai Dal titolo Demone E Potete ascoltarlo Su tutte le piattaforme Digitali Potete anche acquistare Il cd fisico Basta andare Sotto Al video Al videoclip Ci sono i link O altrimenti Nell'avvio Di Instagram C'è C'è tutto Il link In bio Con i vari Riferimenti Dove potete Acquistare il cd fisico E poi Vi ringrazio Davvero tanto Per avermi Ospitato Per questa intervista Speriamo Di Vederci Presto Magari a qualche live Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata